La crisi di governo vista da Firenze non si prevedono conseguenze sulla maggioranza in regione, il parere delle forze politiche. Cambierà la legge sulla forestazione, il Consiglio regionale approva una mozione dopo i blackout elettrici di inizio gennaio a seguito dell'emergenza neve. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio. La crisi di governo è ovviamente seguita con grande attenzione anche a Firenze. Abbiamo chiesto ai gruppi politici se pensano che ci possono essere conseguenze anche sulla maggioranza PD Italia Viva sulla quale si regge la giunta regionale. Ascoltiamo quali sono state le risposte. Io mi auspico che lo Stato possa ritrovare saldamente una capacità di governo con quello che saranno diciamo le iniziative per costituire il governo preso dal Presidente della Repubblica nei prossimi giorni. La nostra maggioranza in Toscana è stabile, procede con rispetto dei programmi, una sintonia fra le forze politiche che sostengono questa maggioranza molto forte e quindi sono contento dell'autorevolezza e della stabilità che la Toscana può assicurare in un quadro nazionale oggi precario. Anche se ripeto auspico presto il rientro in carica di un governo che possa assicurare questa condizione di iniziativa che una fase così delicata di emergenza sanitaria, economica, sociale può assicurare. Spero che nel governo comunque si ricomponga la presenza e la forza della Toscana sia sempre più forte perché sappiamo, l'abbiamo visto, c'è grande bisogno. Ma io penso proprio di no. Noi siamo stati eletti pochi mesi fa dai cittadini della Toscana con un risultato importante. Stiamo governando in maniera ottima. Abbiamo un tasso di vaccinazione sul numero di vaccini ricevuti elevatissimo. Siamo riusciti a riaprire le scuole. Non era scontato e l'abbiamo fatto migliorando il trasporto pubblico locale, consentendo alle ragazze e ragazzi di poter rientrare nelle scuole. Abbiamo aperto i musei in sicurezza. Insomma c'è un'azione di governo della regione molto importante e penso che noi dobbiamo ragionare di questo. Poi viviamo in un mondo più grande e quindi di conseguenza quello che accade a Roma lo guardiamo con attenzione. Io penso che noi dobbiamo attraverso, con il programma con cui ci siamo candidati ai cittadini, chiedere anche ad altre forze politiche se sono disponibili, come dire, a darci la fiducia su quel programma. Non è il contrario. Noi dobbiamo lavorare perché quel programma con cui siamo stati eletti venga portato in fondo. Per cui ben venga un ragionamento con il Movimento 5 Stelle, sapendo però che si parte dal programma con cui abbiamo vinto l'elezione e con cui i cittadini ci hanno chiesto di governare la nostra bella regione. Escludo su ogni livello il fatto che ci possa essere una ripercussione in ambito toscano della crisi di governo nazionale. Qui è un'altra storia. Tre mesi di governo regionale. Le cose le abbiamo promesse, le abbiamo fatte. Noi abbiamo messo la faccia con il nostro governatore Eugenio Gianni. L'abbiamo sostenuto. Abbiamo vinto le elezioni. C'è un impegno preso con i cittadini toscani. Le cose si stanno facendo. Abbiamo riaperto le scuole. Abbiamo approvato un bilancio. Abbiamo fatto delle azioni tempestive per contrastare il Covid. Abbiamo avuto coraggio di governare insieme. La coalizione è salda e forte. C'è rispetto reciproco. E soprattutto c'è un impegno preso con i cittadini. A Roma la cosa è diversa. Abbiamo lo stesso Presidente del Consiglio che ha pensato di provare a governare con tre maggioranze differenti in tre anni. Qui c'è un Presidente della Regione eletto da cittadini toscani che noi abbiamo sostenuto e verso i quali abbiamo preso un impegno concreto mediante le elezioni che si sono svolte soltanto tre mesi fa. Vi posso dire che Fratelli d'Italia sta all'opposizione e starà all'opposizione qualsiasi cosa accada a livello nazionale. Starà all'opposizione di qualsiasi governo nasca non dalle urne a livello nazionale. Lo farà in Toscana. Vi posso dire semmai il problema è di chi fino ad oggi ha fatto finta di fare opposizione e si ritrova in maggioranza oppure chi ha fatto finta di fare la maggioranza e potrebbe ritrovarsi all'opposizione. Ma non è un problema di Fratelli d'Italia. Noi speriamo sempre che la Regione Toscana possa cambiare colore e possa anche cercare di portare soluzioni alternative. Non credo che la crisi di governo abbia ripercussioni sulla Toscana se non tra i vari alleati del PD. Italia Viva e Cinque Stelle che comunque si contendono il ruolo e il posto in maggioranza. Certo il centrodestra con la Lega Capofila che sappiamo avere la maggior parte dei consiglieri all'opposizione farà quello che ha fatto in questi anni, un'opposizione costruttiva cercando di portare temi e cercando di dare soluzioni. Ci dispiace in questo senso che Gianni abbia smesso di dialogare con le opposizioni. Aveva iniziato a farlo pur nelle nostre diversità abbiamo avuto a inizio legislatura un dialogo con Gianni a cui noi abbiamo detto che eravamo disponibili ad affrontare i temi che servono alla nostra regione, ai nostri cittadini dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista economico. Gianni ha smesso di parlare con l'opposizione. Quindi ci sono state di nuovo chiuse le porte come le abbiamo trovate sempre chiuse con Enrico Rossi. Adesso il PD si sta comportando nella stessa maniera che abbiamo visto nella scorsa legislatura. Questo un po' ci dispiace perché pensiamo di poter dare un grosso contributo e crediamo che la Toscana e i cittadini toscani abbiano bisogno delle idee di tutti. Non c'è differenza di colore quando si parla di attività economiche che rischiano di non riaprire o di artigiani che non sanno se sopravviveranno. Noi pensiamo di poter lavorare e lavorare bene. Ecco vorremmo essere ascoltati un po' di più. Non penso però che la crisi dal punto di vista nazionale si possa ripercuotere sulla Toscana se non sui ruoli che hanno in maggioranza Italia Vive e anche il 5 Stelle che comunque ricordo si è assenuta sul programma di Gianni a inizio legislatura quindi tanto opposizione non l'abbiamo mai valutata. In un sistema politico normale sarebbe inevitabile che Italia Vive venisse messa all'angolo dall'attuale maggioranza e gli venesse chiesto conto anche in regione toscana di quello che sta succedendo al governo nazionale perché le conseguenze che vanno dal recovery fund alla gestione della pandemia e della crisi economica le subiremo anche in Toscana e sarà colpa di questa componente della maggioranza. Io spero che ci sia una presa di atto forte da parte loro nei confronti di questa forza politica. Noi siamo molto preoccupati che all'interno di questa compagine di governo della quale naturalmente noi non facciamo parte e che tutti i giorni con proposte incalziamo possa uscire Italia Vive e possa entrare il Movimento 5 Stelle portando il governo della regione toscana e il governo più a sinistra nella storia di questa regione. Naturalmente noi continueremo dal Consiglio regionale a portare le nostre idee, le nostre proposte, a fare un'attività incalzante di opposizione ma credo che non interessi quello che noi denunciamo, credo che interessi ai cittadini quello che noi proponiamo a partire dall'abbattimento delle tasse, da un piano vaccinale che prevede la vaccinazione immediata di alcune categorie. Penso da un lato ai malati cronici che sono esclusi dalla prima fase vaccinale, malati oncologici, malati cronici, malati cardiopatici e dall'altro per esempio il personale dell'insegnante e dei docenti che consentirebbe per i nostri ragazzi di andare in estrema sicurezza a scuola. Penso ai medici odontoriati che sono stati esclusi ma che sono invece in prima linea. Pensiamo alle forze dell'ordine. Ecco questa è Forza Italia, una forza positiva, propositiva che porta le sue idee anche in Consiglio regionale. Ovviamente come abbiamo sempre detto non ci sono automatismi, sarebbe sbagliato. Qui abbiamo una coalizione che si è presentata alle elezioni, ha presentato un programma, è stata premiata agli elettori e noi su quello ci misuriamo. Ovviamente quello che succede a Roma nel momento in cui ci sono divisioni non aiuta ma sarebbe errato produrre degli automatismi e invece noi dobbiamo fare quello che auspico anche possa riprendere a Roma. Concentrarsi sulla soluzione dei problemi dei Toscani e della Toscana con due priorità la salute e il lavoro. Un argomento che ha tenuto banco nell'ultimo Consiglio regionale è stato quello della gestione dell'emergenza neve di inizio gennaio nelle province di Lucca e Pistoia. Nel corso della seduta del Consiglio è stata approvata all'unanimità una mozione che impegna la Giunta ad attivarsi affinché le misure di sostegno ai comuni coinvolti e alle popolazioni, sia di carattere nazionale che regionale, vengano assegnate ed elargite nel più breve tempo possibile. Ma soprattutto c'è l'impegno a intervenire per migliorare la manutenzione e la gestione dei boschi demaniali e per valutare una modifica delle norme regionali sulla forestazione per i tagli di manutenzione degli alberi presenti nelle aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti di servizio pubblico oltre che della viabilità. Per primo sentiamo il Consigliere che ha proposto il provvedimento Mario Puppa del Partito Democratico. C'è in atto una procedura per la richiesta dello Stato di emergenza nazionale che ristorerebbe i comuni delle risorse messe in campo per aiutare la popolazione e per intervenire sui danni soprattutto che anche in queste ore si stanno manifestando. Intanto io devo manifestare la mia grande soddisfazione perché la mozione presentata in Consiglio è stata votata da tutti i gruppi consigliari. È una mozione che impegna la Giunta su diversi fronti. Intanto a costituire immediatamente un tavolo di lavoro con le province e i comuni, con Enel e con le aziende di telefonia al fine di prevenire situazioni simili. E poi c'è un intervento anche importante perché si vada a modificare la normativa forestale puntando a diverse azioni. Intanto la prevenzione di quella che è la situazione della viabilità perché le piante hanno di fatto impedito anche ai mezzi, isolato il paese, i mezzi di intervenire eccetera. Poi un'azione che vada appunto a cercare di prevenire quelli che sono i danni alle linee elettriche. Un'altra azione, la terza, che in qualche modo intervenga per il dissesto idrogeologico e poi anche un'attenzione sul reticolo idraulico perché le piante cadendo sotto il peso della neve hanno poi invaso i fiumi con il rischio logicamente di formarsi di dighe pericolose poi a valle. Quindi questo è un compito in parte anche affidato alla stessa Commissione Aria Interne che è stata costituita in seno al Consiglio che avrà lì un compito specifico che è quello di definire anche attraverso la realizzazione di progetti pilota azioni che vadino un pochettino a migliorare quella che è la manutenzione delle foreste, dei boschi, della montagna toscana. Io ritengo che abbiamo svolto un'azione molto importante come protezione civile. Personalmente sono stato in Garfagnana proprio nel momento in cui nevicava, nei momenti più critici. Contemporaneamente l'assessore Monni era su alla Betone. Devo dire che possiamo dire che la protezione civile regionale è stata essenziale nel contributo offerto alle zone più colpite. Certo dobbiamo riflettere sul fatto che le condizioni atmosferiche anche in questo mese di gennaio hanno generato tutta una serie di situazioni che ci portano a emergenza regionale che comportano davvero un forte impegno. Pensate alle frane, pensate all'erosione sulla costa. In questi giorni avrò numerose riunioni perché progetti strutturali che contrastino l'erosione e cercheremo di borli anche attraverso il recovery fund, attraverso poi i fondi europei. Ma la questione di dissesto da un punto di vista delle aree interne come il mare richiama a definire questa come una questione prioritaria di impegno da parte della regione toscana. Ai sindaci che mi hanno sollecitato e chiesto interventi alla regione mi viene però da dire una cosa. La regione può intervenire, può trovare finanziamenti, può metterli nel recovery fund ma occorrono questi progetti. Almeno i progetti da parte dei comuni è bene che vengano fuori. Il Consiglio regionale ancora in questi momenti sta cercando di lavorare sostanzialmente a una soluzione condivisa di quelli che sono gli interventi. È chiaro che per noi l'emergenza non è stata la neve. Lo vogliamo dire chiaramente e ribadire chiaramente. L'emergenza è la politica perché ritenere un'emergenza, una situazione in cui è palese come la mancanza di una manutenzione non straordinaria ma di una manutenzione ordinaria abbia causato così tanto disagio permanente durante una, fra virgolette, quella che si può definire un'emergenza atmosferica ma che una volta era ben sopportabile sostanzialmente per come si verificava anche nelle nostre zone montane non può essere chiaramente ridimensionata anche all'interno delle grandissime relazioni che ci hanno illustrato in Consiglio regionale. Quindi è chiaro che noi siamo d'accordo nel rivedere urgentemente quei dispositivi normativi che vanno ad aumentare il livello di correzione sotto il profilo della manutenzione da riportare sul territorio però non nascondiamoci questa volta l'emergenza e la mancanza si è sentita sotto il profilo politico non soltanto per un'esigenza di carattere atmosferica. L'assessore ha fatto una relazione molto dettagliata siamo a 4,2 milioni di euro di danni e sono ancora in corso le quantificazioni danni naturalmente diretti che si aggiungono al danno più generale di una stagione incredibile dove la neve da risorse è diventato un problema per la stragrande quantità ma anche perché gli impianti sono tenuti anche se siamo in zona gialla chiusi. La verità è che noi abbiamo chiesto subito e gli altri gruppi ci sono venuti dietro e stiamo lavorando in queste ore ad un documento unitario per mettere mano alla legge sulla forestazione perché la legge sulla forestazione e il relativo regolamento impediscono di fatto un taglio normale logico dei boschi e alla prima nevicata un po' più importante il problema è esploso in tutta la sua gravità. Sono cadute piante alte 20 metri, si sono dovute chiudere le strade per il pericolo di crollo degli alberi, sono caduti tralici dell'Enel e delle linee telefoniche che sono state isolate intere frazioni e le famiglie messe al freddo con le imprese nella impossibilità di lavorare. È un sistema che non regge, è un sistema che dobbiamo correggere, non c'è bisogno né di tanti troppi tavoli né di tante commissioni, c'è bisogno di intervenire sulla legge la 39 del 2000 e relativo regolamento di attuazione per consentire un taglio normale che da secoli i nostri nonni, i nostri avi che abitavano le montagne hanno fatto e che ha garantito fino ad oggi la manutenzione di un corretto assetto idraulico e idrogeologico. Se questo non viene fatto la montagna purtroppo è destinata a morire. Una vicenda che ci deve insegnare alcune cose rispetto alle quali noi dobbiamo fare passata l'emergenza per la quale voglio ringraziare i vigili del fuoco, il personale dei comuni e la colonna mobile della protezione civile regionale per lo straordinario lavoro che hanno fatto e stanno facendo, però ci sono alcune questioni sullo sfondo da affrontare. Penso alla questione dell'autonomia dei ripetitori di telefonia mobile. In caso di blackout alcuni hanno un'autonomia solo di 24 ore e questo significa che poi ci troviamo a problemi ancora più gravi per le popolazioni in caso di blackout, così come il tema della fascia di rispetto dalle linee elettriche, probabilmente sulla quale è un tema su cui occorre intervenire, visti i blackout che si sono caratterizzati anche in queste ultime settimane e così anche la questione delle alberature attorno alle strade. Una questione tutta aperta c'è con ANAS. Rispetto alla Statale 12 ho chiesto all'assessore Baccelli di convocare ANAS perché sia sul lato lucchese che pistoiese la Statale 12 è continuamente soggetta a frane, a interruzioni. Insomma, una emergenza che una volta superata ci deve però mantenere l'attenzione su questi e su altri temi. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.